Non è piaciuta a molti cittadini e partiti di opposizione la decisione di annullare il presepe vivente di Chieti a causa del maltempo. Una decisione è arrivata il 5 gennaio attraverso una nota dell'Associazione Teate Nostra guidata dal presidente Vanni Di Gregorio, organizzatrice dell'evento dopo il sopralluogo effettuato in mattinata nel corso del quale era stata constatata l'impraticabilità dell'area interessata agli allestimenti a causa della neve con possibilità di piogge pomeridiane. In molti hanno espresso il loro dissenso sui social network accusando gli organizzatori di non aver fatto il possibile per dare vita alla manifestazione che negli anni precedenti ha riscosso un grandissimo successo portando in città migliaia di visitatori nonostante il freddo che in gennaio c'è sempre stato. Il presidente Di Gregorio ha replicato dicendo Costoro che parlano hanno mai partecipato al presepe, hanno mai dato un aiuto a coloro che organizzavano, sono venuti anche da paesi vicini per prendere parte al presepe, ma di Chieti c'erano solo le associazioni vicine a Teate Nostra. Ma tale scelta non è piaciuta neppure al sindaco Umberto Di Primio. Mi è piaciuta nemmeno a me la scelta di annullarlo, ma non siamo stati noi ad annullare la edizione del presepe vivente che si doveva tenere il 6 di gennaio. È stata una scelta dell'associazione che l'organizza, Teate Nostra, la quale mi ha chiamato soltanto nella serata del giorno prima per avvisarmi che non avrebbero fatto il presepe perché vi era un'allerta meteo. A quel punto io nulla ho potuto perché chiaramente è un'organizzazione che non dipende dal Comune se non accettare la loro decisione. Ho cercato anche di convincere di affagli o a recuperare l'evento, ma mi hanno detto che in quel momento non erano in grado di darmi risposte. Io trovo però veramente stucchevole e anche ormai disgustoso questo continuo polemizzare contro il Comune per delle cose che non riguardano il Comune. Quindi basta, facciamo uno zoo per i leoni da tastiera, mettiamoli lì dentro, ma non è più possibile tollerare che sempre gli stessi stiano lì a non far nulla se non a criticare il Comune anche sulle cose per le quali il Comune nulla c'entra.